Entusiasmo, passione, determinazione. Queste le caratteristiche dei candidati delle tre liste civiche a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Mileti, che sabato sera hanno avuto modo di presentarsi alla città. Voglia di termoli, democrazia e solidarietà, i giovani per termoli, i nomi delle liste di cittadini che hanno scelto di partecipare alla competizione elettorale al fianco di Mileti. Sono operai, imprenditori privati, dipendenti, giovani studenti, alcuni di loro hanno già alle spalle qualche esperienza nella pubblica amministrazione, ma la maggior parte dei candidati è formata da volti nuovi, persone che non hanno mai preso parte al lagone politico. Il motivo? La sfiducia nella politica, la distanza percepita tra i politici e i cittadini, l'assenza di programmi reali e attuabili, la poca stima in chi per anni è stato proposto come candidato sindaco. In tanti, sabato, nei loro discorsi di rappresentazione, hanno ribatito invece che proprio la proposta di Mileti, quale candidato sindaco, li ha convinti non solo a tornare a credere nella politica fatta dalle persone, ma addirittura hanno scelto di affiancarlo, di giocare in prima persona questa competizione elettorale, candidandosi in suo supporto.